Tony, ma ti piace questo video? Sincero? Allora, ho visto il video d'anteprima e è meraviglioso. Una storia d'amore bellissima. La canzone è già bella, l'avete ascoltato quindi. Io quindi voglio annunciare a tutti quanti voi che finalmente domani uscirà questo video. Come domani? Domani? Domani il 3? Domani dopo avanzo, sì. Ma domani è sabato? Sì. No, giù facci. Com'è? No, no. È troppo bello. No, no, no. Siccome la canzone l'ho scritta io, sono un po' geloso. No, è l'amore di essere rimasto. Lunedì, lunedì. Lunedì? Sì, lunedì è nato fatto. Ragazzi, lunedì. Lunedì, domani no. Ma poi è sabato, la gente rimaneva uscita. Lunedì sei zanappi, mamma dice buongiorno, buona settimana, buon inizio di settimana. Ecco, il video di Enzo Barù. Secondo me è nato fatto. Ragazzi, lunedì. Ragazzi, lunedì, andate aspettare. Andate per le mie facili, andate due secondo me. No, aspettate, andate, non fa niente. Vabbè. Ve lo godrete di più. Non può mai capire. Lunedì, vi raccomando, Enzo Barù. Ciao.